Ciao ragazzi, ciao ragazze, andiamo a risolvere un altro problema e un altro dubbio che hanno molti portatori delle protesi di capelli, che devo fare della extra base. Infatti quando voi ricevete il sistema vi verrà con una parte senza capelli, questa è la cosiddetta extra base. Questa base è molto facile da eliminare, si useranno semplicemente delle forbici e si taglieranno a filo del capello. Io normalmente faccio così, lo metto dal lato back e semplicemente con la forbice procedo a tagliare tutto il settore senza capelli e mettendolo da questo lato, dal back, io vedo chiaramente dove iniziano i capelli e dove non ci sono. So che alcuni usano le lamette o addirittura il bisturi per tagliare questa parte, è una scelta vostra, il consiglio che vi do è di usare delle normalissime forbici, io addirittura uso quelle di mio figlio, potete usare delle forbici da parrucchiere o delle forbici da cucina. Il consiglio che vi do sempre è di tagliare a filo dei capelli, cioè di non lasciare qualche millimetro senza capelli, sempre di tagliare a filo dei capelli. Tagliando a filo dei capelli avrete un frontale totalmente invisibile e un effetto molto molto naturale. Quindi questa era una domanda che molti mi facevate, so che la risposta era semplice, però ho voluto fare questo video per potervi indicare meglio come fare e indicarvi soprattutto il fatto che va tagliato, non va tenuto questa parte del sistema senza capelli. Spero che il video vi è piaciuto, se vi è piaciuto per favore dateli un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!